Dopo una breve parentesi soleggiata, con temperature in ripresa, una nuova perturbazione di origine atlantica, andrà a guastare il tempo a metà settimana con fenomeni diffusi e un generale calo termico su tutto il nord-est. Si prospetta un clima tipicamente autunnale. Martedì la mattina il sole sarà offuscato da nubi alte e sottili. Nel corso della giornata la copertura nuvolosa in aumento. Verso sera, primo deboli piogge sull'Alto Vicentino, a Visalia di un forte peggioramento in arrivo. Mercoledì mattinata di maltempo su tutta la provincia. Un vortice di bassa pressione andrà ad approfondirsi sul Mar Ligure. Sono previste piogge diffuse anche a carattere di rovescio sulle pedemontane. Punte di 25-30 mm sulle prealpi. Tra il tardo pomeriggio e la sera ci sarà una pausa dei fenomeni, temperature in diminuzione. Giovedì giornata di maltempo, piogge estese su tutto il territorio di moderata intensità. Venti di rinforzo dai quadranti nord-orientali. La neve cadrà dai 2.000 metri di quota, attesi generalmente dai 20 e 40 mm di pioggia. Venerdì avremo ancora delle precipitazioni spazze, mentre nel fine settimana il tempo sarà in miglioramento. Il sole sarà in protagonista soprattutto nella giornata di domenica, quando la colonnina del Mercurio tornerà a salire.